Io direi che è una giornata storica per la provincia di Teramo e per la città capoluogo di Regione L'Aquila perché non ci dimentichiamo che lo scalo ferroviario ubicato a Giulianova è quello di riferimento di un distretto molto più ampio che è quello della provincia di Teramo e della città capoluogo L'Aquila. Quando quattro anni fa, il 27 di novembre del 2011, Trenitalia ha decise di sopprimere le fermate del Treccia Bianca lì fu un giorno brutto, nero e purtroppo, lo devo sottolineare, nella indifferenza del governo regionale dell'epoca. Io mi sono battuto insieme a una squadra che è composta di amministratori ma non solo, di tanti operatori turistici per riportare al tavolo del confronto con Trenitalia che è una società privata i dati oggettivi. Devo ringraziare il governatore D'Alfonso che in questo mi ha consentito di far valere questi dati e noi abbiamo dimostrato che lo scalo ferroviario di Giulianova serve un distretto che genera quasi 3 milioni e mezzo di presenze turistiche l'anno, ha 42 mila posti letto. Lei tenga presente che l'omologa stazione di San Benedetto del Tronto che fa riferimento al distretto di Ascoli ha molte presenze turistiche in meno e la metà dei posti letto ne ha circa 20 mila. Questi sono i dati oggettivi che fanno del nostro distretto il distretto turisticamente e economicamente più importante del medio adriatico. Se continuiamo a lavorare così ci sarà futuro anche in altre realtà. Il gioco di squadra è fondamentale. Purtroppo qualcuno ha remato contro ma quel qualcuno forse non può fare l'amministratore e ci dovrà pensare su questo elemento.